ben trovati e ben trovate a tutti quanti questa sera ci divertiamo un mondo come da promessa del nome della joint venture creativa di isa e claudia le quali le quali hanno accettato di farsi tirare dentro a raccontare una cosa percorso professionale loro che ha del del poetico e del coraggioso poetico perché si aggancia al desiderio di rimanere di mantenere la propria identità e dignità di autori autrici fotografi fotografici e coraggioso perché per farlo getta il cuore oltre all'ostacolo di cosa sto parlando del fatto che isa e claudia hanno pensato di non farsi travolgere dall'avvento delle novità ma di calarsi come nell'acqua fredda calarsi volutamente e utilizzare la novità dell'intelligenza artificiale come elemento costruttivo e non come elemento subito e nel far questo hanno tenuto d'occhio il mantenere la loro identità visiva la loro identità creativa la loro identità da autori da autrici anziché adeguarsi come in tanti casi avviene adeguarsi ai modelli stilistici in qualche maniera imposti dai diversi diversi sistemi di intelligenza artificiale prendere mid journey che pure aveva una una sua riconoscibilità se non tenuto alle briglie con briglie tese e tramite mid journey ricostruire il sapore espressivo estetico del loro della loro produzione nel frattempo sono arrivati altri sette ragazzi ai quali grazie al cielo è stato risparmiato di sentire la mia preintroduzione e che sentiranno dalla viva voce mi diverte un mondo la loro storia e le difficoltà trovate le speranze deluse le difficoltà risolte le speranze confermate cioè il bello e il buono è ancora il bello di quello che hanno fatto consolante il sapere che si può non farsi fagocitare ma assolutamente utilizzare l'intelligenza artificiale generativa ok ok quindi continuare a parlare Roberto che ha usato già la ha usato già la metafora del mare dell'acqua che ci siamo calate nell'acqua e io il titolo per per questa chiacchierata che mi piacerebbe che fosse una chiacchierata visto che forse non siamo neanche tantissime quindi magari riusciamo a interagire l'ho rubato due giorni fa in giro per il fuorisalone a Marras che ha fatto una bellissima esposizione e il titolo era il mare dove non si tocca appena l'ho letto ho detto sì siamo quella cosa lì il nostro anno il nostro anno a navigare tra i giorni e tutti questi tentativi è proprio questa sensazione di provare di tentare di non sapere se andare avanti verso l'acqua l'acqua fonda se tornare in spiaggia perché è tutto più sicuro e nonostante tutto come diceva Roberto ci stiamo divertendo un mondo e vi volevamo coinvolgere un po' in questo processo in cui ci siamo buttate esattamente sì un anno fa direi c'è un momento che ci piace moltissimo cioè che per noi è stato proprio un cambio epocale perché è stato un cambio di gesti cioè il corpo ha cambiato i gesti è stato a giugno dell'anno scorso eravamo seduti a un bar a lavorare e abbiamo visto una scena pazzesca per noi per un fotografo di moda bambino di pubblicità cioè un bambino sui due tre anni capello rosso arancio ma di quel rosso arancio proprio giusto per per le foto che arrivava con dietro un giovane papà rosso arancio dello stesso rosso arancio con capelli e barba rosso arancio e si sono seduti su una panchina di legno di quelle chiamiamole quelle arcobaleno quelle della pace quelle del della discontro la discriminazione e era una scena pazzesca no per che di solito noi appuntiamo come promemoria per i servizi in quel momento non ho preso cioè la mia mano non ha preso l'iPhone li ha inquadrati anche da lontano zoomandoli ma ha fatto un'altra cosa terribile cioè ha aperto il computer e nella casellina del prompt ha digitato bambino due anni in inglese perché mi avevano detto che in inglese funziona meglio capisce di più e adesso vi volevo a questo punto dato che parliamo di foto volevo anche condividerle con voi abbiamo deciso di condividere anche le immagini brutte le immagini non riuscite perché comunque rendono meglio il processo anche molto brutte anche molto brutte e questa è stata la foto che è uscita una delle prime foto con un errore di battitura nel senso che in inglese B E A R se manca di una D diventa orso e quindi mi giorni ha reinterpretato quindi c'è sia la barba sia l'orso rosso e questa è stata diciamo la prima foto da cui poi noi abbiamo iniziato a chiedere quindi l'orso è sparito è comparsa la panchina raccobaleno e da lì da lì poteva nascere diciamo poi abbiamo buttato tutto nel cestino però in quel momento è stato veramente il primo momento in cui ci siamo sentite fotografe AI cioè nel senso fotografe senza la fotocamera cioè invece che catturare un momento della realtà che avevamo davanti ai nostri occhi con la macchina fotografica o col telefono l'abbiamo fatto per la prima volta ci è venuto istintivo farlo in un altro modo e quindi quello direi che è proprio io lo riconosco come il momento in cui tutta la mia vita professionale è un po' cambiata cioè nel senso che poi da lì in poi non abbiamo più smesso di digitare prompt ho chiesto anche a chat GPT se ci possiamo comunque continuare a chiamare fotografi e mi ha detto di sì che ci possiamo chiamare creatrici di immagini visuali artisti visuali ma che anche fotografi è accettato perché comunque il nostro lavoro è quello di pensare ideare e poi andare a creare immagini e avevamo iniziato comunque sì da pochi mesi grazie agli amici di Luca Pianigiani e Giovanna Sala di Highway Lab Magazine di Jumper sono stati loro a introdurci tecnicamente nel programma e tuttora li seguiamo perché per noi è molto importante avere un punto di riferimento tecnico di aggiornamento continuo perché il programma ogni giorno ogni settimana fa delle modifiche incredibili e avevamo iniziato in due modi totalmente opposti Claudia si è buttata a capofitto in un modo senza quasi bulimico quasi bulimico senza io le dicevo attenzione che diventi un ikikomori e io ho avuto invece il rifiuto totale cioè che cos'è questa roba non mi piace io ho bisogno della realtà ho bisogno di pulire la bava ai neonati sul set ho bisogno della macchina fotografica del casino dei set e quindi mi sono proprio rifiutata per qualche mese cioè aprivo guardavo e dicevo no no non è la mia poi ho iniziato e basta è stato comunque travolgente quindi pensavamo di raccontarvi un po' la nostra storia facendovi vedere appunto i primi lavori il primo portfolio e le cose che stiamo facendo e comunque è fondamentale all'inizio abbiamo avuto proprio un momento quasi di paura no di questo cambiamento che ci si prospettava e la sensazione di avere questo questo futuro che capivamo sarebbe stato imminente e quindi ci siamo almeno io personalmente mi sono fermata e ho pensato ma adesso a proposito del mare dove non si tocca e adesso cosa faccio? Gli articoli dicevano entro il 2025 anche adesso leggiamo entro il 2025 il 95% delle immagini e dei video verranno prodotti con l'intelligenza artificiale aiuto e la sensazione è proprio quella di perdere se stessi perdere tutto quello che siamo stati fino ad ora perdere le nostre conoscenze io vi dico il mio impatto la mia paura iniziale cosa faremo come faremo gli art director diventeranno fotografi tutti potranno fare delle foto decenti quindi la partenza è stata a parte il mio interesse per le cose nuove quindi il mio interesse sul così provare a computer a generare che è una cosa comunque affascinante che poi vi racconteremo la mia paura è stata e adesso cosa succede? quindi questo è stato l'inizio che non è proprio rilassante, piacevole poi piano piano provando e ovviamente entrando nell'ottica del nostro lavoro stiamo andando avanti e stiamo scoprendo cose condividiamo magari quali sono stati i primi servizi veri cioè nel senso degli editoriali, degli articoli e poi anche dei servizi commerciali dimmi Roberto se vado bene, ecco la condivisione vai benissimo, solo un dubbio che mi è venuto adesso mentre dicevi i primi servizi veri, parli dei servizi fatti prima dell'AI o dei primi servizi di AI? no, no, i servizi in AI allora il primo innazio è bella la domanda infatti dietro, vedi dietro abbiamo messo delle stampe appese di solito non stanno lì ma uno dei primi bisogni che abbiamo sentito proprio perché per sentire che queste foto erano vere, erano reali è stato stamparle è stato incredibile perché io non andavo da uno stampatore professionista da qualche anno e mi sono presentata quindi con questi file AI commissionando queste stampe su carta bella, fine art proprio per avere questa sensazione di poterle toccare e di portarle anche dai clienti insieme al portfolio chiaramente in pdf, in digitale, su computer di portare anche le stampe per dire guarda che sono cose vere, sono reali, toccale sono anche su carta bella, nemule, fine art e questa cosa sì, c'è questo bisogno almeno noi lo sentiamo tantissimo di poi di realtà, di concretezza e anche di tornare, di mischiare le tecniche vecchie e le tecniche nuove noi comunque abbiamo iniziato col banco ottico con lo sgarzino e i liquidi per stampare e questa cosa comunque ci pare bella cercare di unire tutto la tradizione e il primissimo, diciamo la primissima commissione ce l'ha data proprio quelli i ragazzi di Jumper che ci hanno chiesto di collaborare per il primo numero della loro rivista sulla i e noi abbiamo in quel momento avevamo davanti tutta la libertà di scegliere l'argomento e noi abbiamo voluto scegliere la cosa che ci sembrava la più semplice ma la più difficile sì, nel senso dei bambini in un prato dei bambini che giocano in un prato che è una cosa appunto a giugno, luglio dell'anno scorso si vedevano tantissime su Instagram di queste immagini generate con i giorni erano sempre cose lunari vesuviani personaggi strani con la pelle strana e a noi non interessava quella roba lì e quindi ci siamo chieste ma perché dovremmo usare la i che cosa ci interessa e allora siamo partiti semplicemente dalle solite commissioni che abbiamo avuto per vent'anni dai nostri clienti quindi redazionali cataloghi di moda foto pubblicitari e abbiamo provato a testare lo strumento proprio partendo da lì vediamo che cosa riusciamo a fare con cose semplici e allora questo era stato il primo articolo che poi Luca aveva intitolato che ne sai tu di un campo di grano perché e la cosa interessante di questo è che noi nei nostri servizi fotografici abbiamo sempre cercato adoriamo i campi i campi fioriti quante volte abbiamo chiamato le agenzie le agenzie di location e abbiamo chiesto dei campi avete dei campi fioriti vorremmo fare un servizio fotografico mai mai neanche un campo e quando l'abbiamo trovato il giorno dopo ce l'avevano rasato e avevamo il timore che è capitato tante volte di fatti tra le nostre foto tradizionali nonostante il forte desiderio i campi di fiori non c'erano quasi mai e noi siamo un po' affezionate ai campi di fiori tant'è che continuiamo a generarne questo per esempio è un test per un'azienda olandese di abbigliamento che fa un abbigliamento molto colorato molto abbiamo fatto un test su commissione quindi mamma e figlia capelli rossi che passeggiano giocano corrono ridono in un campo pieno di fiori questo è un primo test reale proprio per un'azienda di abbigliamento poi passiamo sempre all'inizio diciamo abbiamo fatto molte collaborazioni con riviste quindi editoriali perché è una cosa appunto più virgolette più più semplice questo è stato un editoriale per scimparello magazine che è una rivista di abbigliamento bambini online il tema era spazi desolati quindi noi sempre legato ai bambini abbiamo pensato al tema del problema della denatalità della culla vuota e l'abbiamo reinterpretato con passeggini vuoti in spazi remoti la cosa interessantissima di questo di questo servizio è stata che l'abbiamo completamente per noi sbagliato cioè nel senso non riuscivamo assolutamente a ottenere le foto che volevamo e ci siamo accorti dopo oramai era già consegnato era già pubblicato che non avevamo uno slash nella casella di Mid Journey che è Mid Journey è il programma che genera immagini credo che sì lo diciamo che è la casella del RAW che è praticamente una corrispondenza per cui se tu metti lo slash su quella casella hai più probabilità che la richiesta rispecchi le tue le tue diciamo richieste più più che quelle come dicevi tu prima Roberto di Mid Journey l'estetica di Mid Journey che è abbastanza però una cosa interessantissima di questo servizio è stato il design il design del prodotto cioè come Mid Journey a seconda delle richieste delle reference che inserisci delle richieste delle ispirazioni che noi abbiamo inserito che sono legate a film a opere d'arte ad altri autori fotografi come Mid Journey ha interpretato e creato questi prodotti e proprio da questo servizio abbiamo capito che si apre anche nella nostra professione un secondo un'altra possibilità cioè oltre a fornire le foto dei prodotti dei cataloghi si apre anche questa parte di collaborare con le aziende per il mood board per l'ispirazione proprio sul prodotto cioè nel senso che comunque un passeggino così da guerra o uno cioè un designer comunque può trovare un sacco di ispirazioni non capisco Silvia scusa ci puoi dire quale casellina intendi cosa? non sento no c'è il microfono spento interrompiamo la condivisione un altro proprio un attimo un altro collega Marco scriveva in chat nonostante tutto manca ancora un gancio concreto con i potenziali clienti generare bambini che non sono i veri figli dei propri clienti o vestiti che non esistono realmente nella collezione di un brand equivale solo a giocare con lei ho anticipato che poi avreste spiegato come avete risolto non generando bambini veri ma utilizzando le fotografie non so se possono dire figli dei nostri clienti non li fotografiamo mai cioè non è la nostra specializzazione la fotografia la ritratistica per privati o per e invece i prodotti dei nostri clienti sì sì adesso infatti stiamo iniziando la proiezione proprio si arriverà la proiezione no la proiezione dei lavori che man mano il carousel però si aprono anche altre strade diciamo non solo quella del prodotto sì scusate io prima lo litigavo col tablet che si era piantato e non riuscivo a unmutarmi hai detto c'è una casellina da barrare per prendere di più il controllo di Mid Journey che avete scoperto mi stavo chiedendo c'è una voce che si chiama settings settings dove ci sono tante cose che si possono slasciare barrare e a seconda delle proprie necessità degli esperimenti che si vogliono fare una di queste perché la fotografia così dicono così abbiamo imparato sia più fedele vicina alla fotografia poi si chiama anche raw probabilmente per quello è la casella raw che si ottiene con lo slash settings poi si dà l'ok appare una specie di menu sì ci sono davanti slash settings e lo cercherò grazie non perdiamo tempo non avevo solo capito cos'era lo spelling della parola quindi è raw comunque quando si aggiornano poi le versioni da v5 e di solito spesso quella casella si deseleziona da sola però te ne accorgi subito perché i risultati iniziano a essere un po' diversi dal tuo stile e più simile a qualcosa di esterno a te quindi sì per rispondere anche all'altra domanda continuerei un attimo a proiettare appunto i lavori questo è stato proprio un primo lavoro commissionato da un'azienda di abbigliamento che doveva presentare per cui abbiamo scattato il lookbook nel solito modo quindi fondale macchina fotografica e le persone che fotografano abitualmente in azienda però è un cliente illuminato che quindi ha visto l'AI e ne ha subito preso un possibile utilizzo differente da quello che si fa di solito cioè ci ha commissionato una ventina trentina di immagini per che accompagnassero il catalogo che accompagnassero la presentazione della sua collezione in fiera a Parigi quindi lei ha prodotto un piccolo spettacolo teatrale una performance sulla base di un libro di un autore francese e la storia quindi ci ha consegnato diciamo la musica ci ha consegnato la sceneggiatura diciamo di questo spettacolo in cui c'erano i personaggi che erano una bambina cresciuta in un circo il suo migliore amico un lupo nero e poi tutti gli artisti del circo e ci ha detto fate voi e questo è stato proprio un lavoro commissionato pagato e per noi è stato bellissimo perché in questo caso la cliente illuminata non ha voluto inserire a tutti i costi i suoi vestiti il prodotto ma ha creato un discorso più ampio ha fatto una mostra in galleria a Parigi ne ha fatto un invito una brochure li utilizzerà li stamperà insieme al catalogo quindi mischiandole alle foto del catalogo e questo per noi è un utilizzo interessantissimo diciamo che in una settimana le abbiamo consegnato circa 300 immagini e lei ne ha tirato fuori le 20 30 40 che servivano per il suo discorso il suo discorso è partito da qua da un circo tutto bianco con dei tendoni bianchi delle lucine con questa figura di lupo nero una bambina e è stata subito entusiasta di questa cosa e poi ripensandoci ho pensato caspita uno shooting di questo tipo non sarebbe mai stato possibile cioè con che budget si sarebbe potuto realizzare per un'azienda molto cioè bella di nicchia ma con penso che forse negli anni 80 90 qualche azienda di moda avrebbe potuto sì permettersi di ricreare un circo col proprio stile su tutto bianco e grigio con i propri colori e quindi questa l'abbiamo trovata un'opportunità molto interessante molto creativa democratica molto non lo so molto interessante soprattutto anche la partenza con questi spunti questi input da cui siamo da cui siamo partite che comprendevano anche delle musiche oltre che delle fantasie della cliente qui ci sono quattro immagini che ecco che abbiamo messo in serie perché è interessante quando si generano generano le immagini e da qui abbiamo capito anche questa possibile opportunità che avrà il nostro lavoro in futuro capita di generarle e le immagini come in questi quattro casi sono molto simili ma diverse e in questo caso noi abbiamo inserito nel prompt la richiesta di vestire i diciamo i personaggi con lo stile della nostra cliente di conseguenza che è uno stile un po' minimalista un po' di design e sono apparsi ci sono non in tutte le foto ovviamente ci sono diciamo ci ha generato queste quattro camicie ad esempio questo significa che quando le abbiamo presentate poi alla cliente la cliente ha guardato e ha detto caspita ma interessantissima questa cosa la realizzo io quasi quasi una di queste camicie le realizzo questo per dire che ci è venuto in mente che potrebbe anche essere una nuova opportunità per il nostro lavoro cioè non solo inserire i prodotti già esistenti già pensati ma suggerirli suggerirli come fossimo parlo troppo in grande come se fossimo dei collaboratori stilistici diciamo ovviamente tutto questo va inserito in un contesto di professionalità a cui noi teniamo tantissimo quindi non diventeremo mai stiliste però attraverso le nostre immagini possiamo suggerire agli stilisti determinati possibilità insomma comunque già insomma questo lavoro ci ha dato grandi soddisfazioni è stato forse il primo lavoro davvero su commissione pagata e secondo noi apre tantissime opportunità almeno nel mondo della moda e adesso stiamo domani diceva prima non mi ricordo chi chiedeva per i prodotti domani saremo al superstudio purtroppo non possiamo farvi vedere nulla a scattare senza macchina fotografica e senza bambini diciamo tra i primi lavori in cui andremo cioè noi abbiamo generato le immagini per la cliente su richiesta quindi un mood molto preciso i colori di fondale la tipologia di volti di bambino le attitude le posizioni e domani andremo appunto dicevo al superstudio senza macchina fotografica e senza bambini ma con dei manichini e collaboreremo con questa società che si occupa prevalentemente di e-commerce e che quindi ha già tutta un'esperienza sulla foto di prodotto su manichino e realizzerà per noi le foto dei prodotti che poi produrremo noi e inseriremo nelle foto che la cliente ha selezionato quindi questa è la strada che abbiamo scelto adesso di percorrere per inserire e devo dire che stiamo iniziando dalla più difficile perché il mondo dell'abbigliamento della moda è veramente una sfida le posizioni le luci le sfocature sicuramente adesso mi viene in mente infatti ci stiamo proponendo molto in pubblicità perché sicuramente inserire forse un barattolo di marmellata sul tavolo davanti al bambino è più semplice che vestirlo però lo stiamo facendo ci stiamo provando domani adesso non le possiamo purtroppo non le possiamo proiettare perché sono comunque legate alla moda a un'azienda a un cliente e quindi sono ancora i vestiti della prossima collezione però noi ci siamo organizzate così stiamo facendo molti esperimenti li fotografiamo noi su manichino o a noi non interessa e quindi preferiamo forse credo rivolgerci a una struttura che lo fa 365 giorni l'anno 24 ore al giorno credo di sì spero di sì spero che sia la scelta la scelta giusta e quindi domani sì facciamo quest'altra cosa che per noi sarà strana infatti credo che già Claudia abbia intenzione di mettersi lo stesso lo zaino con la macchina fotografica sulle spalle perché se no è una cosa troppo strana continuo a chiederle in studio ma le foto le fanno gli altri è molto strano e comunque in questi in questi mesi abbiamo stiamo appunto proponendo il nostro portfolio comunque volevamo condividere con voi anche in velocità anche il nostro portfolio perché un'altra una delle cose che ci hanno fatto credere un po' in questo progetto è stata la prima volta che abbiamo deciso di iniziare a far vedere il portfolio allora abbiamo iniziato dalle persone più più vicine a noi e una una producer con cui abbiamo lavorato per tanti anni l'ha guardato e ci ha detto dai ma siete voi vi riconosco no? e questa cosa mi ha illuminato perché poi dall'interno lavorandoci tante volte non ti rendi conto e questa cosa di sentire che eravamo riuscite a tirar fuori comunque la nostra personalità il nostro spirito quello che avevamo percorso per così tanti anni a me ha dato poi la carica per continuare per andare avanti a studiare e anche per sentire che ci siamo comunque veramente c'è l'uomo dietro la macchina e è una collaborazione cosa? non vedo tutta la foto intera ma anche un pezzo va bene oddio ma niente e non va bene ok teniamo la piccola e quindi abbiamo continuato cerchiamo di alternare il bianco e nero il colore i ritratti un po' più moda tipo studio delle foto ecco questa diceva qualcuno prima come fate a inserire i prodotti questo può essere una campagna per un peluche per un gioco non è così strano no? quindi cerchiamo di fare cose abbastanza naturali seguendo le commissioni di sempre e ogni tanto ci concediamo anche qui cioè questo può essere tranquillamente un bagno schiuma una crema per neonati sicuramente bisogna ragionare già sull'idea cercare l'idea adatta poi a fare un inserimento di prodotto cerchiamo di sperimentare luci differenti tipologie differenti seguendo un po' sempre appunto il nostro stile quello che anche perché i nostri clienti ci conoscono da anni per il nostro stile e cerchiamo quindi di fare una cosa molto concreta di portare avanti questa parte diciamo che è come se ci rendessimo conto che stiamo come trasformando qualcosa di vecchio a cui siamo abituate in qualcosa di tramutiamo questo in qualcosa di nuovo però più andiamo avanti più ci rendiamo conto che i gesti quasi della fotografia c'è un parallelismo incredibile nel senso che a partire dalla scelta fotografica l'editing a proseguire con che ne so i gesti che si fanno tu parlavi prima poco fa lei mi diceva ma mi sto rendendo conto che quando escono le foto vengono generate i quattro bollini di me journey su discord lei cosa fa? Fa così e allora pensavamo ma questo gesto non c'è nuovo ci sembra un gesto d'altri tempi effettivamente pensavamo a quando c'era il lentino e si andava tipo facevamo lo stage presso aero nei tempi e c'era Lello Piazza il foto editor che con il lentino guardava e faceva così e noi facciamo la stessa cosa e niente quindi questa gestualità questo editing il fatto che si scorrano così tante immagini e che si debba essere preparati a sceglierle a individuarle anche più velocemente del solito quasi o addirittura lo sviluppo l'ingrandimento una volta che si è scelta un'immagine va in un certo senso sviluppata va ingrandita e non basta le immagini generate sono grosse come un francobollo vengono stampate 5 cm per 7 7 per 7 5 per 7 le rettangolari e quindi sono veramente microscopiche e c'è tutto un lavoro successivo che è una sorta di sviluppo che porta poi alla stampa e che ricorda tantissimo la fotografia quasi la fotografia ancora precedente al digitale e quindi io mi sto rendendo conto che c'è una sorta anche di parallelismo non solo gestuale ma anche proprio professionale mentre prima all'inizio pensavo wow posso fare qualunque cosa adesso mi sto rendendo conto entrando nel lavoro facendo davvero rispondendo a delle richieste come abbiamo sempre fatto che noi siamo sempre noi è incredibile è una cosa veramente un po' anche inaspettata perché quello che avevo inizialmente come pensiero era molto differente era adesso dobbiamo cambiare tutto in realtà mi sto rendendo conto che non stiamo cambiando quasi niente cioè che sono proprio i clienti che hanno bisogno del prodotto di bambino che ci danno credito e non sono certo i clienti che costruiscono macchine che hanno bisogno di fotografare macchine e automobili di cui noi non sappiamo assolutamente nulla e faremmo probabilmente genereremmo delle cose non credibili e non credibili invece del nostro del nostro lavoro sappiamo tutto delle immagini sui bambini sappiamo tantissimo lo conosciamo bene sappiamo quali sono i reali gesti dei bambini sappiamo che un neonato ha quel modo di muovere le mani di posizionare le braccia e se migliorno ci genera una cosa che non è realistica noi la sappiamo riconoscere molto bene e questo è fondamentale secondo me per me è stato fondamentale per allentare questa paura iniziale che avevo e quindi ho pensato bene noi ci siamo ancora noi possiamo ancora esserci hanno bisogno di noi sì anche devo dire che anche i clienti si sono molto rassicurati nel sentire nel capire che dietro la macchina perché anche la loro preoccupazione era vabbè allora tutti digitano un prompt viene poi sempre la stessa cosa viene e invece si sono molto rassicurati nel vedere che dietro al prompt c'è una personalità una professionalità e che rimarrà anzi io spesso sento bisogno degli altri nel digitale cioè mentre sembra un'attività in solitaria io sento bisogno della mia stylist di confrontarmi con un bravo art director e di creare l'immagine comunque sempre in team perché se no sento che mi mancano dei pezzi perché non è così semplice cioè tu chiedi uno stile di abbigliamento se sai se hai studiato storia del costume se hai tutta un'attività se no migliorno ti sputerà fuori quello che lui decide o pensa ma in quel caso tu sei succube della macchina non sei il vero autore di un'intenzione e quindi io non so non sono convinta che sì cioè anzi sono sempre più convinta che rimarrà la specializzazione addirittura del fotografo perché io non saprei come fotografare come diceva Claudio un gioiello o un'automobile ma so quasi tutto del settore bambino del mood che i miei clienti amano e ricercano e quindi non lo so io ho un po' questa tesi per ora e spero mi confermerete o no che è uno strumento con una potenzialità pazzesca bellissimo e che dovrà essere comunque usato bene dai professionisti quindi l'avvocato risolverà i suoi casi con chat GPT il chirurgo opererà il cuore e i fotografi continueranno a creare le immagini e spero che non si scambino queste professionalità e tra l'altro ho letto proprio ieri o l'altro ieri mi è capitato il nuovo spot di DAV non so se l'avete visto è un video che si chiama The Code DAV è sempre quella dei bagno schiuma della bellezza autentica quella che da vent'anni va avanti con la donna reale e chiaramente sono molto critici nei confronti della I ma sicuramente non la stanno censurando adesso volevo non so se avete visto comunque il video si chiama The Code non ve lo faccio vedere ma lo trovate ovunque su YouTube però e sul sito americano ci sono proprio pagine e pagine hanno creato un vero e proprio piccolo libricino di 60 pagine molto bello io vi consiglio di scaricarlo e di leggervelo tutto il loro focus chiaramente è sulla bellezza della donna sull'utilizzo della I in modo consapevole quindi questo è quello che ovviamente contro cui si scagliano sono i bias per cui la bellezza della donna rifatta plastificata finta ma loro chiaramente dicono sei tu dietro la macchina e solo se tutti insieme usiamo bene l'intelligenza artificiale in un modo intelligente in un modo professionale possiamo creare qualcosa di interessante e loro spiegano proprio passo dopo passo suggeriscono questo è quello che che dicono no che mi giorni ti propone e spiegano adesso ci arriverò come scrivere il prompt ecco donna cosa significa ci sono venti sfumature di donna ventimila sfumature di tipi di pelle ventimila sfumature di abbigliamento di look di azioni che una donna può fare di età e quindi insegnano proprio a inserire i prompt per avere una donna realistica reale per avere questa bellezza autentica addirittura qui fanno la distinzione tra asiatico e filippino no cioè sono sfumature interessantissime ora il loro focus è sulla donna sulla bellezza della donna però io leggendo il libro mi sono ritrovata tantissimo cioè se noi fotografi usiamo bene i prompt con tutta la cultura fotografica che abbiamo di anni di scatti fatti con la macchina di stampe di mostre viste di film e tutto possiamo veramente cambiare e istruire istruire l'intelligenza artificiale a fare cose di valore certo se la lasciamo usare solo agli influencer o ai ragazzini così per gioco chiaramente questo per dire che la paura iniziale di tutti possono fare tutto non è proprio così anzi più si usa questo strumento e più si capisce che non c'è nulla di nuovo sotto il sole e questo per noi davvero è molto rassicurante non so per voi però il fatto di avere quasi scoperto che in realtà è una paura come c'è come c'è capitato anche in passato tra le tante il cellulare oddio adesso tutti possono fare le foto non è stato così tutti possono scattare certo tutti possono postare certo però se si vuole lavorare professionalmente si deve avere sempre una cultura dell'immagine una cultura fotografica e ognuno ha le sue culture e le sue conoscenze che sono fondamentali per lavorare bene poi come sempre le nicchie sono tante differenti e dipende dove in quale si vuole si vuole inserire in quale si vuole lavorare però per quanto riguarda noi diciamo fotografi professionisti direi che al momento io e Isabella credo possiamo dire possiamo stare tranquilli un'altra cosa interessante non so è stata appunto perderemo tutti il lavoro non so io in questo questo periodo di uso della io ho sentito è vero alcuni collaboratori non li chiamo più non leggiamo quasi più studi per andare o location però sento molto per esempio il bisogno di bravi post produttori quindi credo che per ora a me servirebbero tanti bravi come collaboratori art director perché se non c'è l'idea forte poi si sa che crolla tutto l'editing è diventato veramente una cosa secondo me interessantissima perché escono una quantità di immagini diciamo che in otto ore poi credo che alla fine di una giornata di scatto come i giorni si possano avere migliaia di foto e tante brutte tante così così e solo poche molto belle su cui vale la pena lavorare e approfondire quindi si deve essere molto bravi in questa parte quindi delle figure anche di bravi editor potrebbe essere anche un ritorno dove sono spariti tutti i foto editor e poi sono tornata poi questa questo vivere in questa realtà così diciamo staccata mi ha portato appunto a aver voglia di stampare le foto di stampare le belle e poi vabbè per il nostro settore c'è anche tutto questo fatto di etica sul bambino quindi a noi è vero sono carini i bambini cioè veri sono belli ma per noi avere i bambini sul set a rappresentare un prodotto un vestito una merendina o altro non è mai stato così etico o così piacevole soprattutto in Italia dove le leggi su che regolamentano il lavoro dei bambini sul set non sono mai state così rispettate come tutte le leggi in Italia però non so a me di usare bambini virtuali per vendere prodotti non sembra poi così male preferisco vedere i bambini reali a scuola giocare al campetto di basket o altro quindi anche questo aspetto è secondo me una cosa vantaggiosa dal nostro punto di vista a questo proposito vi raccontiamo una cosa brevissima su cosa capita per esempio sui set quando ci sono i bambini che per esempio devono devono fare delle foto e hanno a seguito il pediatra il dentista e varie figure professionali per cui magari il bambino al bambino si mette un apparecchio appositamente per fare si mettono dei denti posticci per fare una fotografia quando magari un bambino è meraviglioso senza i denti a sei anni e quindi poi questo discorso sul virtuale non virtuale apre porte anche di sì sono anni che siamo abituati comunque a selezionare i bambini in un certo modo e poi a post produrli in un certo modo quindi io questa per esempio un po' polemica o critica su questa questa resa artificiale che dà l'intelligenza artificiale sono un po' dubbiosa dubitante perché sono anni che noi lavoriamo nell'artificiosità nel senso è tutto costruito è tutto finto è tutto post prodotto fino all'eccesso tante volte ci siamo scagliate contro i clienti che ci plastificavano i neonati cioè avete presente i neonati con quella bella texture quella quella pelle le rughette piccole imperfezioni sono sempre stati piallati in post produzione quindi il fatto che adesso lo faccia a miggiorni non ci non ci sconvolge più di tanto anzi quindi non so se Roberto ha intravisto delle domande ci sono delle domande in chat anche che volano basso come è giusto che sia intanto per l'upscaling delle immagini che cosa a cosa ricorrete l'upscaling per ingrandirle e portarle alla tampa per esempio noi personalmente facciamo o utilizziamo il primo upscaling del programma che è un due per e da lì poi lo portiamo in altri programmi in un altro programma in particolare che si chiama Magnifique e va non è facile l'upscaling perché l'immagine ha delle caratteristiche particolari che già noi adesso con l'esperienza iniziamo ad individuare quindi già a monte facciamo una sorta di editing di selezione ma è questo che facciamo praticamente prendiamo l'immagine o la esportiamo e la portiamo in Magnifique e ci sono dei parametri che si possono gestire tarare e la la ingrandiamo come se fosse una ricampionatura dell'immagine oppure facciamo anche tanti esperimenti perché alcune immagini funzionano meglio in un modo e altre in un altro modo alle volte usiamo addirittura Photoshop per fare il primo upscaling e poi lo lo facciamo successivamente il secondo un mix perché non ci piace che si vedano troppo quegli artefatti che crea spesso anche Magnifique comunque per rispondere in modo molto semplice alla domanda è questa usiamo per lo più Magnifique come programma per l'ingrandimento sempre tenendo poi in considerazione che la maggior parte dei clienti fa un uso su web su social o per stampa o oramai quasi nessuno dei nostri clienti stampa più il catalogo quindi ci sono pochissime le immagini che ci chiedono di ingrandire magari per un cartello ancora per un punto vendita per un cartello vetrina ma sono una su venti cioè tutte le altre vanno bene così nel senso quando sono venti-venti quando sono dieci-dieci quindici-quindici già vanno benissimo per gli utilizzi che di cui fanno comunque abbiamo fatto anche qualche prova un metro per un metro e comunque regge sì sì regge regge Silvia solleva un tema di cui abbiamo parlato Isa fate acquotare un lavoro fatto in AI questa è una bella domanda cerchia cerchiamo soci cerchiamo soci per decidi no stiamo rimpostando veramente tutta la nostra attività e ci sentiamo proprio principianti con venti anni di esperienza ma ci sentiamo sia l'entusiasmo proprio di stare iniziando una nuova attività e abbiamo messo in conto per tre mesi sei mesi spero tre più che sei di sbagliare tanto di sbagliare a tararci sui tempi cioè quanto ci metterò a fare questo lavoro prima la giornata di scatto cioè prima sapevo tutto sapevo che c'era ok chiamare l'agenzia per fare il casting contattare la stylist mettere insieme il team opzionare la location sapevo che la giornata di scatto sarebbe stata una due tre cinque massimo adesso è tutto un po' variabile e io non lo so però non lo dico al cliente quindi faccio un pacchetto una cifra un forfait per cui io ci siamo accordate e l'unica cosa è sbagliare per imparare e quindi man mano aggiustiamo il tiro diciamo chiediamo il budget chiediamo che budget avete e diciamo ok possiamo fare questa cosa per esempio la nostra cliente del circo ci ha dato lei un budget io ho questo budget mi va bene investirlo in questo progetto e noi ci siamo state dentro bene tranquillamente quindi forse è anche un po' parlare spiegare al cliente che sono che è un nuovo modo di lavorare e che è anche più lungo nel senso che noi abbiamo anche diciamo senza precisione comunque abbiamo capito che il nostro lavoro è più lungo per certi versi e che quindi più o meno le cifre sono rimaste invariate però direi che adesso che stiamo appunto facendo e mettendo veramente in pratica con più di un lavoro potrebbero essere anche aumentate un po' sì io penso io penso che il cliente non abbia più tantissime spese almeno nei nostri servizi veramente le spese di casting bambini modelli trucco e capelli location camion di attrezzatura cadono il fotografo secondo me lavora un po' di più magari il post produttore anche e quindi meglio per noi non lo so potremmo comunque noi fotografi post produttori un po' art director diciamo mettere insieme un piccolo team e proporci anche in squadra e comunque dare un valore comunque al progetto che dipenderà come sempre spero credo dai diritti di utilizzo per il momento da tutte queste cose call for action se fra chi vede questa diretta o ascolta o guarda la registrazione ci sono altri colleghi professionalmente coinvolti nella produzione di immagini di immagini AI ma professionalmente coinvolti nel senso che già poi stanno portando a casa dei frutti già stanno lavorando con dei clienti già hanno un portfoglio simile a quello di Isa e Claudia scrivete associazione chiocciolafotography.org perché un gruppettino di lavoro su questa cosa lo faremo e anche perché noi ci siamo sempre basati sui tariffari di Roberto sono vent'anni che usiamo i manuali di Roberto i tariffari e adesso come facciamo quindi sì quindi sì io dico che a me viene molta voglia anche di da un lato si lavora da soli si parla con una macchina ma a me è molto venuta voglia anche di co-working tra fotografi cioè di gruppi di fotografi di pensare insieme decidere insieme scambiarsi più le esperienze mentre prima si era un po' chiusi in questi studi tutti barricati paola chiede perché avete usato a usare i miei giorni avete fatto dei corsi per imparare a usarlo se sì quale ci consigliate sì allora la primissima volta ho chiamato appunto questo amico Luca Pianigiani e gli ho detto sono stufa sono stufa di tutta l'attrezzatura del nostro modo di lavorare dei camion di stativi di luci tutto questo per cosa hai un nuovo strumento da consigliarmi io pensavo vabbè una nuova macchina fotografica un telefono non lo so qualcosa per sentirmi più leggera e lui mi ha risposto forse ho qualcosa che fa al caso tuo incontriamoci al bar e così lì ho visto la prima foto stampata realizzata con l'intelligenza artificiale che era una foto un ritratto di moda di una donna e lì è stato dove abbiamo per la prima volta quindi più o meno proprio un anno fa conosciuto questo programma ho provato anche Dalli poi so che c'è Stable Diffusion io ho provato anche Stable Diffusion però a noi hanno consigliato per il nostro genere fotografico Mid Journey e poi è stato proprio lo dicevamo già prima con questi questi lab che fanno proprio questi gli amici di iWay poi magari Roberto ha tutti i dettagli noi abbiamo seguito loro perché se no cercare poi sul web tutti i tutorial è veramente cioè non è il nostro genere e invece tramite loro riusciamo a essere ogni mese aggiornate sulle nuove versioni sulle nuove funzionalità che sono interessantissime poi la cosa lo conosciamo tanto così credo al 30% penso che usiamo le potenzialità di Mid Journey però la cosa più interessante per noi è stata darci delle piccole commissioni quindi ricreare noi siamo partite proprio ricreando dei vecchi servizi non so se è stata la scelta giusta però per ora va bene così e rifarli quindi provare proprio a giocare divertirsi e sperimentare e soprattutto una cosa interessante recuperare anche gli errori avevamo messo perché escono cose strane no? quando e partire poi anche da quelli cioè noi alla fine salviamo tutte le cose strane che escono per esempio avevamo messo un'anomalia che è questa una vecchia richiesta di tanti mesi fa era una mamma che insegna a fare la capriola a suo figlio è uscito questo lo stile era un po' team walker e c'è qualcosa se lo conoscete c'è qualcosa di team walker cioè i vestiti questo stile un po' inglese e però non ci trovavo né la mamma né aspetta e quindi di questa cosa ho detto boh che me ne faccio poi mi è caduto l'occhio sulla quarta cioè quella in basso a destra e ho detto cavolo un bambino con questo mostro e questa cosa è pubblicitaria da qui si può partire per una ricerca e ho iniziato a chiedere non so le paure dei bambini mille cose possono rappresentare e allora abbiamo iniziato da un errore da una cosa che non c'entrava niente andare avanti sulla ricerca fino ad arrivare per dire un'immagine così che è un'immagine niente niente di effezionale c'è ancora molto da lavorarci su però per dire da mamma che insegna a sua figlia sua figlia girl a fare la capriola è venuta fuori questa cosa e secondo me il bello è prendere da questa tecnologia anche tutto quello che può dare comunque le capriole non le sa fare io continuo a chiedere le capriole le ho chiesto questa è stata la cosa migliore che mi è uscita qualche giorno fa comunque gambe da una parte braccia dall'altra quindi mid-journey non sa fare le capriole quindi vi prego chiedete se c'è qualche insegnante anche di educazione fisica che può insegnare a mid-journey come si fa una capriola che cos'è una capriola per esempio a me questo aspetto di mid-journey piace tantissimo cioè dell'intelligenza artificiale perché è come se i nostri i nostri modi di pensare il nostro pregiudizio fotografico in questo caso sull'immagine cioè viene smantellato viene stravolto alle volte da delle proposte che fa in questo caso la macchina che ci propone delle cose sorprendenti quindi quello che io trovo molto interessante e secondo me aiuterà davvero tanto la creatività in generale è che io ho sempre fatto un certo genere fotografico l'ho sempre pensato più o meno in modo creativo in realtà mi sto rendendo conto che la nostra creatività umana in questo caso e poi però spiego meglio che cosa intendo per umana cioè la mia creatività umana sembra molto ma molto ma molto ridotta rispetto a quello che propone in modo sorprendente il programma però questa creatività se ci pensate è una creatività che è la creatività di tutte le persone che utilizzano il programma cioè la cosa bella è che paradossalmente sembra di lavorare in come dire in solitudine ma quello che invece succede è che tutte le persone che utilizzano il programma danno degli input danno dei suggerimenti lei chiede le capovolte e un altro chiede che ne so il diastema dentale adesso sono fissati questi denti oggi vabbè non importa ma quello che succede è che quando tu non chiedi una cosa e lui te la propone tu la guardi e se sei un creativo la scopri e ti viene proprio da dire ma che bello cioè la mia testa era piccola e adesso può diventare un pochino cioè si può allargare e questo è molto molto interessante soprattutto per il discorso dei bias cioè di questi pregiudizi o di queste nostre predisposizioni professionali che all'apparenza sembrano tanto creative ma alle volte poi non lo sono così tanto è bellissimo questa parte bello sto guardando la chat sia Paola che ho visto un altro collega comunque sono interessate le possibili implicazioni nella rappresentazione di prodotti di prodotti reali e quindi che cosa siete riuscite a portare a casa come informazione come possibilità di interazione fra il mondo reale fotografato e il mondo rigenerato ma io no noi il nostro è tutto un mondo AI no quello delle nostre foto e ci stiamo appunto mettendo dentro ora i prodotti come dicevamo scattati a parte inseriti in post produzione cioè quello che la differenza tra il prima e il dopo è che noi dobbiamo pensare e guardare le immagini nel nostro settore in particolare considerando e anticipando questo inserimento quindi quello che cambia è un po' un po' questo mentre prima dovevamo stare attenti a determinati fattori o parametri per esempio nel nostro caso che so la moda che il vestito sia visto in questo modo e quindi prevedere la posizione del bambino che deve essere piuttosto di tre parti anziché di prospetto e bla 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 adesso il ragionamento è genero le immagini ovviamente seguendo il mood del cliente tutti una volta che è deciso cosa fare si devono generare le immagini in previsione di quel tipo di inserimento di conseguenza le immagini vengono sia richieste sia scelte in base a quello che sarà poi il prodotto e diciamo la parte noi ci stiamo rendendo conto di alcune cose che non pensavamo in precedenza per esempio in questi giorni stiamo facendo delle immagini in cui ci vengono richiesti dei primi piani per esempio e delle figure più allargate questi primi piani il cliente ci chiede magari il giubbotto lo possiamo sia aprire che chiudere tipo il collo del piumino e noi ma certo sì poi a computer ci rendiamo conto che non è così cioè non è che noi possiamo fotografare e poi variare questa cosa facilmente perché noi abbiamo a monte generato delle immagini per esempio che hanno delle luci differenti e quindi non possiamo solo fare quella modifica ma possiamo è un modo diverso di pensare che ognuno penso nel proprio settore nel proprio ambito deve poi tarare comunque non è neanche una cosa così lontana da quello che è sempre stata la foto pubblicitaria perché tante volte hanno ricostruito fondali mani piedi pezzi di prodotto hanno inserito cioè in pubblicità voglio dire è una cosa che in post produzione si fa da tantissimo quante teste tagliate quante via la testa via la testa mettiamone un'altra per dire quindi non è poi una cosa così distante da quello a cui siamo abituati sempre dalla chat si manifesta l'interesse per quel opuscolo di DAV avete delle indicazioni più di rete o se volete condividere i file se potete farlo sì sì io l'ho trovato per ora sul sito americano non ancora sul sito italiano ma sì ho trovato tutto il materiale di DAV l'ho trovato sul sito questo qua aspetta eccolo qua DAV.com quindi c'è proprio una sezione Beauty in the AI Age e poi a un certo punto aspetta che si trovo l'altra schermata ecco c'è questo c'è una parte proprio sulla i e vedete qua in basso c'è download our AI playbook io l'ho scaricato da lì e sono ora non sono capace cosa devo fare qualcosa devo caricarlo da qualche parte ah sì lo sto copiando io ah ok e lo metto in in chat ce l'ho il pdf è questo il pdf che pesa ben che pesa ben 30 megabyte 60 pagine di no è molto interessante loro hanno sempre sono sempre stati bravi insomma nel comunicare questa cosa questo questo apre direttamente il pdf non mi da non mi da il link copia il link vediamo se ora confesso che mi sono perso per strada il generare no sull'informazione tecnica per cui mi scuserà qualcuno che è più informato di me anzi vi prego di farvi avanti il il potere allenare l'intelligenza un'intelligenza artificiale generativa tramite delle immagini di partenza immagini multiple di uno soggetto unico è cosa ormai assodata ho visto applicazioni concrete di questa cosa però solamente in siti commerciali ce ne sono 7-8 che io abbia nozione che da una ventina di selfie produce poi degli scatti di quella persona degli scatti godibili come come avatar per i per i per i per i social network e similari e quindi creare delle foto di ritratto partendo da delle foto di ritratto scalcinate e rendendole più affascinanti a modo di vedere di chi ha fatto l'intelligenza artificiale così come gli abiti fotografati in più più formule in più posizioni sono integrabili con la figura però mentre ho visto delle applicazioni commerciali del ritratto costruito da molti ritrati non ho visto delle applicazioni commerciali della seconda soluzione cioè potrei fare un prodotto e usare quel prodotto come modello per insegnare al secondo secondo voi non si potrà tra poco inserire direttamente o forse per una questione non so di privacy di diritti no non so non so io come previsione spero che tra poco si possano anche inserire appunto già direttamente i vestiti i prodotti però non so se poi ci sono questioni appunto di diritti di privacy o cose in Europa si Antropic che ha fatto quel meraviglioso Cloud 3 è raggiungibile da tutto il mondo tranne che dall'Europa noi stiamo facendo un prodotto adesso non si diretti con quale programma perché lo sto facendo Paolo mio collega e marito ma un'azienda che seguiamo che fa telecomando industriali glielo stiamo facendo il telecomando c'è un modello del loro telecomando che poi si possa posizionare come 3D sì partendo da delle foto ma come con Blender però anziché disegnarlo in vettoriale tu puoi fare un certo numero di foto del prodotto e lui ti genera l'oggetto credo in vettoriale noi semplicemente abbiamo questa esigenza perché poi il cliente ogni volta dice ah da qui è più bello ah ma non si vede che c'è il connettore tac e tu dici allora ti devo rifare la foto invece così glielo fai tutto così ogni volta che deve far vedere una particolare adesso dico si applica un oggetto tecnico sì questa questa cosa cioè diciamo è particolarmente utile dal momento che il nostro cliente ha un oggetto tecnico perché probabilmente per altre cose c'è un po' meno della necessità di aver sempre l'oggetto disponibile a 360 gradi però ci sono un po' queste due strade per il momento da quello che ci è sembrato di capire la strada che stiamo percorrendo noi è quella del 3D per inserire nelle immagini il prodotto cioè si fotografa a monte con delle apparecchiature di 300 macchine fotografiche il prodotto e si ottiene un 3D un'immagine 3D che si può vedere ovviamente da basta una piattaforma girevole una sola macchina fotografica sì 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 certo infatti magari così ma non volevo spaventare nessuno no no però per le persone per esempio che si muovono che hanno dei movimenti per un oggetto per esempio al super studio li hanno questi scanner con 100 canon ti fanno proprio un avatar di te stesso che gira in tutti i modi da sopra da sotto e poi lo puoi mettere lo possono andare a mettere dove vogliono noi per ora domani avremo i manichini e vi faremo sapere spero tra qualche mese di avere tanti lavori con tanti prodotti inseriti ma anche di avere tanti lavori senza prodotto cioè nel senso che anche il filone questo che abbiamo percorso sul circo a me è piaciuto molto e è sembrato molto interessante cioè le immagini a parte le immagini extra le immagini per un libro per altri progetti insomma per una mostra per altre cose che le aziende che dobbiamo anche poi essere noi bravi a vendere alle aziende altre cose rispetto al solito tram tram degli ultimi 50 anni che bello bello vero? speriamo principianti allora prima di salutarci prima di salutare Isa e Claudia domande richieste proposte soluzioni proposte facciamo gruppo facciamo squadra perché è una cosa nuova e quindi più più ci si confronta più punti di vista e più è facile anche per esempio una cosa l'ultima che dico è che quando siamo andate in giro prima di Natale abbiamo iniziato a girare col portfoglio e al primo cliente che era una grande azienda di moda adulta molto grande dopo un quarto d'ora che scorrevamo le foto abbiamo iniziato a ricevere domande ambigue equivoche tipo no ma spiegateci meglio quindi allora i bambini come facciamo a fotografarli dove li troviamo dove li avete presi insomma finita la call abbiamo ci siamo guardate abbiamo capito oddio stiamo dando per scontato un mucchio di robe ma che in realtà ancora la gente non ha ben capito come funziona che è tutto finto che non c'è niente di vero e per questo per esempio abbiamo capito che andare in giro col solito portfoglio come facevamo prima di carta o in digitale non era sufficiente e abbiamo dovuto creare un documento a parte una specie di di presentazione di vibretto di istruzioni su come lavoriamo cosa significa come funziona eccetera eccetera quindi insomma si confrontarsi mettere insieme le esperienze sicuramente agevola si è una cosa che suggeriamo il fatto di andare con anche questo tipo di presentazione quindi tu ti consigli che avete anche voi dalla vostra esperienza ben venga poi Roberto tu fai il tariffario si è proprio l'intenzione il manuale di istruzioni il tariffario i diritti i diritti si ma bisogna rilevarli sul campo non si può fare a tavolino è vero è per quello che siamo alla ricerca di persone che di colleghi che già adesso stiano vendendo a tavolino si fa una cosa come il tariffario della SIAE vero che quando vuoi un angolo del buon umore leggi con le tariffe bene fine? nessun'altra domanda richiesta? fine ma inizio ma inizio ma inizio ma inizio itzio 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 ancora e meno male che c'è chi si diverte un mondo che si diverte ancora un mondo grazie tantissimo Ise e Claudia perché grazie a voi avete aperto il cuore e un po' di conoscenze comune va sempre bene sì bene dai apriamo i microfoni abbiamo i microfoni tutti quanti mettete una faccetta ciao vogliamo una seconda puntata una seconda puntata una seconda puntata alla prossima ciao ciao brave se scoprite cose ditecele ce le scambiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti